Ma tu lo sapevi che ci sono delle skill utilissime e fortissime che puoi utilizzare anche se non sai skillare? Rimani fino alla fine per scoprirle. Benvenuti a tutti ragazzi, io sono il Santu, vi ricordo che sono in live tutti i giorni dalle 12.30 e dalle 20.30. Il link è in descrizione. Lascia un bel like, iscriviti al canale e fammi sapere nei commenti qual è la prossima skill che vorresti vedere. Eccoci qua, nella nostra bella arena, molti sottovalutano l'efficacia di una cosa che è semplicissima, che è il movimento con l'analogico. Ragazzi, il vostro analogico sinistro, senza nessun altro tasto premuto, è il vostro migliore amico quest'anno. I micro movimenti con l'analogico sinistro che sono alla portata di tutti quanti, sono secondo me una delle migliori skill di quest'anno. In assoluto vi permettono di avere un controllo gigantesco sul portatore di palla e aggirare l'avversario in una maniera incredibile. Se riuscite a masterare questa skill, diventate davvero molto 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 più forti. Perché? Guardate cosa vi permette di fare. È preferibile utilizzarla con giocatori molto agili, con molto dribbling e con molto controllo palla. Adesso sono davanti al portiere, ma questo potete farla assolutamente contro tutti i giocatori. Considerate che in questo momento l'avversario vuole recuperarvi palla, vi sta uscendo a cannone, vi sta uscendo in maniera molto aggressiva e voi, senza nessun altro tasto premuto, riuscite ad aggirare il vostro avversario senza dover premere nient'altro che il vostro analogico sinistro. Questa come si effettua? Con la maggior precisione possibile, senza utilizzare nessun altro tasto premuto. Né tasto della corsa, né R1, né L1, né R2. Solo ed esclusivamente analogico sinistro e basta. Come vedete dalla grip, io utilizzo solo l'analogico sinistro con un giocatore agile come Maradona, ma se imparate ad utilizzarla con qualsiasi giocatore, e alla fine del video vi dico anche come, come risulterete molto più efficaci nello stretto e soprattutto in generale nei controlli palla. La seconda skill ragazzi è la suola, il ball roll, come viene comunemente chiamata. Cosa vi permette di fare? Il ball roll che è semplicemente la suola verso l'alto o verso il basso, verso terza o verso sinistra, vi permette di scartare con un semplice movimento, appunto verso terza, sinistra, l'alto o il basso, chiunque voi abbiate davanti, è molto efficace nelle situazioni di uno contro uno con il portiere o anche in altre situazioni dove non c'è bisogno di scartare il giocatore, ma semplicemente per rallentare la propria corsa. Per allenarvi al meglio su questa tecnica, andate su gioca, modalità veloci, prove e abilità, fatevi scenari di allenamento la prima, così che avete la direzione giusta, non nell'arena che è uno contro uno con il portiere, e all'occorrenza avete anche un compagno a cui passarla. Imparate tutte le varie dinamiche per fare il ball roll al meglio, e soprattutto per quanto riguarda il rallentamento della corsa, quindi, come si fa? State correndo con il tasto della corsa premuto? Staccate il tasto della corsa, ball roll e poi analogico verso un lato. Correte, ball roll analogico verso l'altro lato. Correte, ball roll analogico. Il ball roll serve per rallentare la corsa e posizionare il vostro giocatore nella maniera più precisa possibile. Vuoi per effettuare il tiro, vuoi per effettuare il passaggio, o semplicemente per muovere l'analogico che vi ho spiegato prima per scartare l'avversario, ok? Per allenarvi sul scartare il portiere, sempre nelle prove e abilità, andate su tiri e poi avanzato. Questa qui, batti il portiere. Serve per imparare il timing nel momento in cui volete scartare il portiere uno contro uno, appunto, con la suola. Dovete imparare alla perfezione il momento in cui il portiere vi si sta buttando addosso e la direzione in cui il portiere si sta buttando. Se il portiere si butta verso l'alto, voi andate verso il basso. E viceversa, se il portiere si butta verso il basso, voi andate verso l'alto. Non è difficile da imparare. Bisogna semplicemente avere l'occhio giusto per capire effettivamente la direzione che il portiere sta assumendo nei vostri confronti. È importante imparare questo timing, come vedete adesso, che il portiere si è buttato verso il basso e io mi sono buttato verso l'alto. Qua adesso esattamente il contrario. Il portiere si butta in una direzione e io vado dall'altra. Qua, per esempio, ho sbagliato perché ho fatto il ball roll nella stessa direzione in cui il portiere si è buttato. Qui invece l'ho fatto esattamente al contrario. Bisogna imparare assolutamente il timing. Questo ci mettete veramente una cosa come un quarto d'ora, dieci minuti del vostro pomeriggio, analogico destro, verso l'alto o verso il basso. Molto, molto semplice. Questo vi serve per imparare quelle situazioni di uno contro uno contro il portiere dove molto spesso sbagliate la finalizzazione semplicemente perché il portiere vi copre l'angolo di tiro. O siete semplicemente pressati da un altro avversario verso l'alto e voi fate il ball roll verso il basso e vi scartate il portiere e o l'avversario contemporaneamente avete l'angolo di tiro completamente vuoto. Goal praticamente certo. Un'altra skill super efficace che secondo me quest'anno è devastante. serve per prepararvi al tiro o per destabilizzare l'avversario mentre state correndo. Si chiama Hohe Santu. Si esegue molto facilmente tenendo premuto L1 e poi analogico destro su giù o destra-sinistra in base alla direzione in cui state correndo. È una finta molto efficace se siete ad esempio sull'esterno, volete rientrare e poi fare il tiro a giro. Serve per destabilizzare l'avversario in qualsiasi situazione possibile perché fate una finta per andare verso l'alto e subito rientrate verso il basso. Come vedete nelle clip qua sotto io mi allargo verso l'esterno di proposito, faccio la Hohe finta e faccio il tiro a giro. Prendo palla al limite dell'ario Hohe per entrare verso l'area di rigore e tiro a giro sul secondo palo. È veramente efficace. La prossima finta semplicissima ma devastante è di una stupidità clamorosa. La finta di tiro sul primo controllo. Quando il pallone vi arriva da un passaggio e voi siete in procinto di controllare il pallone, finta di tiro. Quadrato X. Con i giocatori con tantissima accelerazione, con tantissimo dribbling e con molto controllo palla, riuscite a sorpassarvi anche due difensori. Io la trovo super utile quando il pallone arriva dal centrocampo e devo subito provare a scartarmi il difensore che già mi sta pressando. La uso quando sono in situazioni dove voglio scartarmi subito il difensore sul primo controllo dove lui non se l'aspetta e soprattutto per dare già un'accelerazione al mio giocatore per tirare o appunto già per scartarmi il giocatore come in questo caso e poi arrivare alla conclusione. È veramente efficace perché con giocatori con 5 skill come Mbappé, come Neymar eccetera eccetera non è difficile da imparare ed è super immediata nello sviluppo del gioco. Mista poi al ball roll che vi ho fatto vedere prima, all'analogio che vi ho fatto vedere prima, risultate veramente molto devastanti per quanto riguarda proprio il primo dribbling appena ricevete il pallone. È molto efficace nei limiti dell'area di rigore perché l'avversario sta panicando il fatto di voler controllare subito il pallone e recuperare subito il pallone. Ma anche sull'esterno, sulle fasce, quando siete uno contro uno con il terzino o comunque con l'esterno avversario, fate questo tipo di finta verso l'interno o l'esterno del campo in base alla situazione. Come vedete l'avversario non riuscirà praticamente mai a recuperare il pallone perché già siete partiti in accelerazione e nel mentre che l'avversario processa quello che è successo voi già l'avete bruciato in velocità. Consiglio bonus per imparare al meglio come passare e come muoversi con il giocatore. Sempre nelle prove abilità passaggi raso terra vi fate la prima. Questa probabilità è fondamentale per imparare il controllo palla con l'analogico sinistro perché vi permette di non uscire da questo quadratino. Vi mettete qui e imparate tutti i movimenti con l'analogico sinistro. Dopodiché dovete scegliere la linea di passaggio più pulita. Come vedete il mio avversario farà solo sinistra-destra verso l'alto, verso il basso, verso l'alto, verso il basso. Scegliete la linea di passaggio più pulita. Quando controllate il pallone con l'analogico sinistro vi fate tutta questa serie di movimenti con l'analogico per imparare sotto al dito proprio, sotto al pollice, come il giocatore si muove effettivamente dopo che il pallone è stato controllato. Una volta che avete imparato tutta questa serie di cose, doppio X verso il giocatore che sta avanti. Ovviamente potete andare solo avanti in questa probabilità. Il trucco dove sta? Quando voi controllate il pallone, questa è una cosa che veramente secondo me è super efficace, accompagnate il pallone verso il passaggio, verso la direzione del passaggio che sta arrivando, fate una piccola finta nella direzione del pallone, quindi in questo caso da sinistra verso destra, fate una finta con l'analogico sinistro di andare verso, in questo caso verso la porta, tornate subito indietro con l'analogico sinistro e poi tornate avanti. Guarda. Destra-sinistra-destra. Così l'avversario si destabilizza, non capisce dove vuoi andare, avanti, torna indietro, avanti, l'avversario non ce la farà seguire il tuo movimento e quindi tu l'avrai già bruciato semplicemente sul primo controllo, facendo avanti e indietro. È di una stupidità immonda, ma veramente, si può dire, ma veramente vi aiuta sul primo controllo per dar fastidio all'avversario. Quando è utile in area di rigore, ragazzi, prendete il pallone, fate finta di andare verso la porta, tornate indietro, l'avversario penserà che voi volete andare verso la porta e invece tornate indietro e subito, poi, con l'analogico sinistro, ritornate verso la porta e l'avversario già avrà perso il tempo e non riuscirà più a recuperarvi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, se queste skill vi torneranno utili. Fatemi sapere, soprattutto, se volete, altri video di questo tipo. Un bacione. Un bacio santo.